Gentili telespettatori, buona giornata. Il Green Pass, Super Green Pass, gli italiani spendono una fortuna per fare i tamponi. 30 milioni di euro al mese. Oltre mezzo miliardo all'anno. Il denaro viene speso per i test rapidi che danno accesso ai locali senza fare il vaccino. Il 15 ottobre scorso è uno spartiacco nella storia della pandemia. Prima del 15 ottobre il Green Pass non serviva più solo per il tempo libero. Cioè da quel giorno non serviva più solo per il tempo libero. Per chi doveva andare al lavoro e non era vaccinato scattava l'obbligo di presentare almeno il risultato di un tampone antigenico negativo. È stata una rivoluzione nei costumi, ma è stata anche in maniera minore una rivoluzione del rapporto degli italiani con le farmacie. Adesso lunghe code, prenotazioni, non ci sono i tamponi, bisogna prenotarsi al telefono, non rispondono per la forte affluenza. Ore di coda. Ma solo il mese scorso hanno speso appena meno di 30 milioni di euro in test rapidi che permettessero loro di accedere a uffici, fabbriche, cinema, ristoranti senza aver fatto un vaccino. Quanti sono quelli che potrebbero o dovrebbero fare il tampone? Si parla di oltre di 6 milioni di italiani che non avendo il vaccino per fare diverse cose devono utilizzare appunto il tampone. Questa stima di Inquivia, una società di analisi di mercato, non include i tamponi molecolari o antigenici praticati nelle aziende, nei laboratori, negli ospedali privati e pubblici. Anche per questo i risultati di novembre parlano chiaro. Se si dovessero ottenere i ritmi di spesa del mese scorso, molto probabilmente gli italiani finiranno per spendere in tamponi più o meno mezzo miliardo di euro l'anno, di tasca propria. Naturalmente sono tutti soldi che potevano essere utilizzati e spesi per altre cose, ma non è successo così, non vengono spesi magari per cinema, pizzerie, per comprare da mangiare, per un'assicurazione, ma sono spesi mezzo miliardo che potevano finire comunque nel commercio, far girare l'economia e fanno girare solo l'economia delle farmacie. Voi sapete che quando ci sono questi eventi come le epidemie, o come la globalizzazione in generale, ci sono aziende che perdono e aziende che guadagnano. Quindi dei settori in forte crescita, dei settori in forte perdita e anche molte chiusure. Una parte importante di queste somme, questo mezzo miliardo, saranno una sorta di tassa privata, preferita da alcuni milioni di italiani a un vacciune gratuito perché finanziato dallo Stato. Gran parte di questi conti si spiegano con il passaggio al Green Pass e risulta chiaro che dalla distribuzione mese per mese e regione per regione della spesa in tamponi. Il 6 agosto scatta l'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi del tempo libero e così la spesa in tamponi nelle farmacie esplode del 47% in più rispetto a luglio. Ma questo non è niente rispetto a quel che accade fra settembre e novembre, rispettivamente l'ultimo mese pieno senza e il primo con l'obbligo di Green Pass sul lavoro. A quel punto la spesa degli italiani nelle farmacie fa un balzo del 70% arrivando a quello che vi raccontavo prima, quei 30 milioni di euro al mese, 5 volte superiore ai dati di luglio. Un costo stimato di 15 euro per singolo test. È plausibile che solo per questo canale in un mese si siano svolti circa 2 milioni di test. Ricordatevi che costavano prima 22 euro i tamponi, il governo li ha calmirato i prezzi d'accordo con le aziende, ma cosa vuol dire? Che governo e aziende si sono messi d'accordo per abbassarli un po', ma non troppo, perché se il tampone costava troppo poco perdeva anche quella cosa che doveva convincere le persone a vaccinarsi piuttosto che spendere tanti soldi in tampone. Pertanto non hanno abbassato il costo troppo, proprio per spingere gli italiani a vaccinarsi. Soprattutto si registra una vera e propria esplosione della spesa in tamponi nelle aree del paese più in ritardo nella campagna vaccinale. Le stesse dove la presenza degli esitanti e dei contrari è relativamente più diffusa. In Val d'Aosta, ancora oggi, quart'ultima in Italia nella classifica delle prime dosi, le farmacie vedono il loro fatturato sui test balzare addirittura quasi sette volte, più 686% fra settembre e novembre. In Trentino, Alto Adige, la provincia di Bolzano, è l'ultima in Italia per l'incidenza delle prime dosi. L'aumento di spesa delle persone è di oltre il 200%. In Friuli, Venezia, Giulia, l'aumento della spesa delle persone è del 240%. Ed è la regione che resta saldamente al di sotto delle medie nazionali per le vaccinazioni. C'è un'accelerazione nella sola Sicilia, al sud, quest'ultima regione con il tasso più basso di vaccinazioni, in parte per i problemi organizzativi delle strutture sanitarie, ma è il rifiuto di una parte della popolazione. Qui la spesa per i tamponi in farmacia segna a novembre un boom del 111% su settembre, come accade nelle regioni del nord, dove la presenza di Novax è relativamente più diffusa. In Calabria, per esempio, il ritardo nelle vaccinazioni è dovuto quasi esclusivamente ai problemi della sanità, non alle persone che non si vogliono vaccinare, ma ai problemi proprio della struttura sanitaria calabrese, chiamiamola inefficienza. E la popolazione risponde aumentando la spesa per i tamponi, che comunque rimane minore della media nazionale. Poi c'è Basilicata, Puglia, Molise. Non è un caso che queste tre regioni sono le uniche in Italia dove la gente ha iniziato a spendere in tamponi anche con il Green Pass in vigore, meno di prima. Perché il paese conosce davvero una nuova linea di faglia fra le molte che lo attraversano. È una tassa volontaria, però è una tassa anche evitabile. Quindi c'è chi sta anche ripensando, dice basta pagare tutti questi soldi e adesso vado a farmi vaccinare, così la finiamo, perché c'è gente che non ce la fa più, pensate che... Ma poi, oltre al costo anche prenotare, mettersi in coda, ore fuori dalla farmacia, diventa una cosa veramente insostenibile. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie.